Ho sentito leggere poesie scritte di Rilke in rete come quando si sente leggere con musiche di sottofondo ed altro delle sdolcinate poesie d'amore, rendendole così passionali per dire. Ma Rilke non è un poeta così. Rilke è un poeta che ha una grande riflessione dentro. Insomma, la sua poesia è una poesia di concetto, non è una poesia di esternazione, di sentimentalismo. Ed è una poesia che va capita. Non a caso ho l'impressione che le regie duinesi non siano così facilmente intellegibili, almeno ad un primo ascolto, ad un ascolto non attento, o ad un ascolto di chi magari non è abituato a questo genere di poesia. E allora volevo cercare, se non altro per favorire la voglia di avvicinarsi a un'eresia di Rilke, volevo provare a commentarne una, a farne una parafrasi sostanzialmente, perché non sono un critico e non ho le capacità di fare chissà quale esegesi, però magari di dare soltanto una piccola chiave, insomma, per capire una elegia di Rilke e magari fare sì che questo aiuti ad avvicinarsi anche alle altre e magari a studiare un po' più profondo un materiale poetico che vale la pena di avvicinare, insomma. Avvicinare perché è un sollievo per lo spirito, no? È un dono che noi facciamo al nostro spirito, al nostro intelletto, quello di poter avvicinare comprendendo determinate opere poetiche di quello che, insomma, è il più grande poeta, perlomeno, dei nostri tempi, insomma, o dei tempi più recenti tedesco, di lingua tedesca. Allora andiamo sulla terza elegia di Rilke che trovate postata, insomma, e quindi potrete sentire per intero e poi provare a capire, almeno come a me sembra di averla capita e come voglio provare a dirla a voi. Qual è il tema, intanto? Il tema è una riflessione sull'amore, ma non sull'amore così, visto semplicemente come un'attrazione per una figura amata, un amore tipo dolce, stil novo, no? È una riflessione molto più complessa, che vuole scavare su quello che c'è alle radici del sentimento erotico ed amoroso e che noi ci portiamo nel nostro, chiamiamolo inconscio, subconscio, come archetipo di tutta una serie di vissuti che sono stati e sono stati elaborati prima ancora che noi nascessimo e che ci portiamo dentro nei nostri cromosomini con la nostra nascita. E lui comincia la sua elegia col dire cantare l'amata è una cosa. Non so, pensiamo a Petrarca, no? Cantare il proprio trasporto per un oggetto amato, ma in questo trasporto dobbiamo vedere cosa c'è in noi, no? Di occulto, e disse un'altra, è me, Quello occulto, colpevole dio fiume del sangue. Dentro, quando sentiamo una pulsione erotica, scorre dentro di noi un dio fiume del nostro sangue. Questo dio fiume è qualcosa che viene da molto lontano, che ci portiamo dietro da generazioni, da millenni, che l'umanità si porta dietro. E che l'amata in qualche modo intuisce, che ne sa questo amante del signor piacere, di quello che muove il piacere, la pulsione erotica. C'è in lui già prima che la fanciulla esista, che sovente da lui solitario, prima ancora che la fanciulla placasse, prima ancora che fosse placato nel rapporto amoroso con la fanciulla, spesso esiste come se neanche la fanciulla esistesse, perché viene prima, levando il suo capo divino, mostrandosi, gocciolante, dice, di qualmai per scrutabile, mostrandosi come qualcosa che non riesce, che non si può indagare, che non può essere detto, che non può essere scrutato, facendo, evocando la notte, cioè portando dietro dal nostro inconscio, creandone il nostro spirito con qualcosa che viene da lontano, dalla notte dei tempi, però mettendolo in tumulto, facendolo in qualche modo agitare, mettendolo, creandogli una tensione. E qui c'è un'invocazione del poeta, oh, Nettuno del sangue, oh, il tuo terribile tridente, o il vento buio del suo petto come da conchiglia ritorta. Molto bella questa immagine, no? Che sta nel sangue come Nettuno nelle profondità del mare, con il suo terribile tridente, quindi con le sue armi potenti, che, oh, il vento buio del suo petto come da conchiglia ritorta, insomma, che mette nel petto dell'amante come da conchiglia ritorta un vento, uno spirito e che agisce in qualche modo senza che lo si sappia bene riconoscere. Quindi c'è qualcosa in più nella nostra pulsione amorosa che non il semplice incontro con l'amata o le semplici emozioni che nascono dalle visioni dell'amata, ma qualcosa che, per capire fino in fondo, bisogna scavare in questo Dio fiume del nostro sangue che scorre da millenni e che ci portiamo dentro. E quindi c'è questo invito «Ascolta come la notte si inconca e si incaverna». Ascoltiamo, ascolta o amante, come la notte, qualcosa che viene dalla notte dei tempi, si inconca e si incaverna, si introduce, si incaverna dentro di noi e muove nel nostro subconscio, nel nostro inconscio. E poi c'è un'invocazione alle stelle. No, voi stelle, ma non viene da voi quello struggersi dell'innamorato per il volto dell'amata? Cioè, non siete voi stelle, cose visibili, cose del momento che suggerite questo sentimento amoroso? Lo sguardo che si interna nel volto puro di lei non gli inviene dal puro stellato? Cioè, non è dettato dalle stelle questo guardare all'amata, questo tendere all'amore che si incarna poi nel corpo dell'amata e nel volto dell'amata, nello spirito dell'amata. E poi dice, no, non gli viene da te questa cosa, non viene dalle stelle né dalla madre dell'amante quello spasmo d'attesa, no? Quella pulsione colma di aspettative che sta nell'arco delle sue ciglia, no? Che è visibile dagli occhi. Non dal contatto di te che l'hai nel cuore, fanciulla, adesso si rivolge alla fanciulla, e nemmeno da te che hai un trasporto verso il tuo amato, nemmeno dal contatto con te. Credi davvero che l'abbia scosso così, tu apparire leggero, tu che vai come la brezza del mattino, ma credi proprio che di essere stata tu a determinare queste cose nel tuo amante, tu che sei così leggera, che vai come la brezza del mattino, come l'aria del mattino, no, diciamo, sei stata la causa occasionale, cioè tu gli hai turbato il cuore, però questo cuore era già carico di turbe antiche che sono state in qualche modo ravvivate come il fuoco dalla cenere, no? Dall'incontro con te e che si sono scaricate in lui nel momento in cui ti ha vista. tu non puoi fare in modo che il tuo amante si liberi continuamente da quell'oscura compagnia, cioè dalla compagnia di tutto quello che ha preceduto la sua vita, di tutti quelli che sono stati gli archetipi dei suoi comportamenti, dei suoi istinti, di quello che sta dentro il suo inconscio e che ancora agisce dentro di lui, al di là del rapporto contingente con l'amata. Certo, egli vuole, gli fugge, alleviato, si abitua all'intimità del tuo cuore e ne prende e si comincia. Allora dice, sì, sì, lui certamente ha bisogno del contatto con te, si abitua al rapporto con te in questo momento, il qui e ora. Lo prende e incomincia, però si interroga il poeta è mai cominciato? Non è già cominciato prima? Questa pulsione amorosa che adesso si traduce nella visione di te, amata? Quindi, c'è qualcosa che viene da sempre, da prima, che è connaturato all'umano, non all'individuo, ma alla storia dell'individuo. E qui si rivolge alla madre, no, ma alla madre dell'amante. Madre, tu lo fecesti piccino, sei tu che gli desti principio, per te era nuovo, tu chinavi ai suoi occhi nuovi il mondo amichevole e gli scansavi le strane. Insomma, tu lo hai fatto, lo hai generato e quindi era una cosa nuova, è nato con te che lo hai generato e tu cercavi di ammaestrarlo, a stare in un mondo, di rendergli il mondo in cui viveva il più amichevole, il più facile, il più lieve possibile e cercavi di scansarlo, di eliminare tutti i pericoli, tutto quello che di estraneo poteva intervenire nella sua vita. E anche, e poi chiede dove sono andati gli anni quando con la tua snella figura soltanto gli spianavi il caos sondeggiante, cioè gli bastavi quando lui era piccolo, bastava la tua presenza per eliminargli il caos sondeggiante, i suoi fantasmi, le sue paure, insomma, lo tranquillizzavi soltanto con la tua presenza e in questo modo quante cose gli seravi così, cioè riuscivi a nascondergli quello che quello che stava dentro di lui, questa stanza che altrimenti poteva essere piena di incubi, di sospetti, bastava che tu ci fossi nella stanza ed eri un rifugio in cui rendevi tutto più tranquillo nel tuo cuore che era tutto rifugio e infondevi uno spazio più umano nel suo spazio notturno, cioè riuscivi a tranquillizzarlo e a togliergli, a rimuovere da quello che era il suo spazio notturno fatto anche degli incubi infantili quello che poteva turbarlo, eri sufficiente insomma a tranquillizzarlo quando era piccolo, tu madre no, la lampada notturna non la mettevi nell'oscurità, cioè non riuscivi però a illuminare il suo buio interiore, i suoi incubi anche infantili, ma la mettevi là dove eri tu, cioè dove eri tu, per lui c'era anche la tranquillità, gli bastavi ed essa brillava come per amicizia, insomma ti sentiva amica, ti sentiva vicina e si tranquillizzava, non c'era screcchiolio che non spiegassi con il tuo sorriso, cioè tutto quello che a qualche momento, qualsiasi pericolo intuito che poteva minacciare la sua tranquillità del bambino, tu con il tuo sorriso riuscivi a calmarlo, a sedarlo, come se da sempre avessi saputo di quanto l'assito si sarebbe assestato, cioè come se da sempre avessi saputo come si fa a tranquillizzarlo con la sua presenza, e allora lui ascoltava e si calmava, e quindi oh, c'è un'esaltazione al tenero potere del tuo alzarti, insomma, no, che potere aveva il fatto che tu li avvicinavi al suo letto e lo tranquillizzavi con la tua presenza, però dietro l'armadio alto nel suo mantello se ne andava il suo destino, cioè lui cresceva, se ne andava da te, e il suo inquieto futuro spostandosi lieve si adattava nelle pieghe della tenda, insomma, lui a un certo punto affrontava il proprio futuro, cresceva e spostandosi in maniera quasi impercettibile crescendo si adattava anche nelle pieghe delle tende, si adattava a una realtà che lo circondava e che non eri più solo tu, madre, che lo tranquillizzavi, portandosi però dietro tutto quel fiume che abbiamo visto all'inizio, no? Il fiume nel sangue, il fiume, quel dio fiume del sangue. Allora, il bambino così rasserenato nel suo letto solvendo la dolcezza della tua lieve figura sotto le palpebre assonnate nel gusto del primo sonno pareva difeso il bambino quindi in questo ambiente protetto sembrava difeso sembrava che tutto fosse lì che la sua realtà fosse lì solo quella del momento del momento da cui era nato a quando era con te ma lui scava in questa cosa ma dentro chi contrastava chi frenava in lui i flutti dell'origine insomma questo bambino però si portava dentro qualcosa di più complesso che gli veniva dal passato dal tempo da tutto quello che stava prima di lui la forza degli istinti insomma no? E tu eri capace bastavi a frenare in lui questi flutti dell'origine come lui chiama con questa bellissima immagine ah non c'erano precauzioni quando dormiva dormiva ma sognava ma febbricitava ecco nel sonno queste cose venivano fuori no? il sonno che produce questi incubi questi fantasmi e come ci si prestava lui il nuovo il timido come era il re Tito nuovo al mondo timido perché non aveva non aveva strumenti per rapportarsi con il mondo però era catturato era il re Tito dalle liane striscianti dell'intimo accadere era catturato da questi elementi che si insinuavano dentro di lui e che accadevano dentro di lui nell'intimo venendo da lontano già aggrovigliati in archetipi erano già organizzate in archetipi in strutture arcaiche che stavano nel profondo in un rigoglio e rigogliavano in modo tale da strozzarlo in un strozzante rigoglio dice in forme dello slancio ferino in forme che avevano una forza quasi ferina sono una presenza importante dentro di noi senza che noi ce ne accorgiamo pensiamo che sia tutto lì nell'incontro nell'immagine che ci facciamo della persona amata ma tutto questo è condizionato da da tante forze che ci portiamo dentro e che in qualche modo ci condizionano in maniera così importante e lui dice come si abbandonava amava amava il suo intimo il selvame del suo intimo il bambino queste forze quasi le amava le sentiva cioè facevano parte di quell'originaria foresta che era in lui sulla cui muta rovina stava verde luminoso il suo cuore ecco queste forze su queste forze comunque nel momento in cui lui le sentiva le percepiva ci stava anche col cuore e quindi le amava quando lasciava il suo cuore andava oltre le proprie radici alla potente origine dove la sua piccola nascita era già sopravvissuta la piccola nascita del bambino venuto al mondo in quel momento che in quel momento sembra cominciare a nascere in realtà non era che il frutto di una nascita che avviene molto più lontana del tempo la somma di tante nascite avvenute per tanto tempo prima ed era una nascita sopravvissuta che affondava in un sangue più antico nelle forre dove era la paura sazia dei padri cioè che si portava dietro tutto quello che era stata la storia dei padri degli avi dei secoli passati e ogni orrore conosceva lui ammicchiava era come d'intesa cioè portandosi dietro questa cosa intuiva questo orrore che era stato prima di lui e e lo aveva assimilato lo teneva dentro di sé era come un'intesa sì l'orrido sorrideva di rado hai sorriso così teneramente tu mamma e lui come faceva a non amarlo se gli sorrideva insomma lui lo sentiva dentro questa cosa non la conosceva ma la percepiva e in qualche modo gli sorrideva e sorridendolo l'amava come faceva a non amarlo se gli sorrideva e questa cosa l'aveva amata prima di te mamma cioè prima perché se la portava dentro già quando non era nato quando ancora era sciolto nell'acqua nel liquido ammniotico che fa lieve il germoglio che rende leggero galleggiante il frutto del concepimento anche questa è un'immagine molto bella no? prima di te l'aveva amato questo groviglio questa cosa che veniva dai secoli passati perché era già presente di lui ancora quando era nel tuo grembo e allora adesso fa una riflessione ulteriore vedi noi non amiamo come i fiori attingendo da un'annata soltanto cioè noi non siamo come come i fiori come altri esseri non pensanti che vivono quella realtà solo del momento di quell'annata a noi quando amiamo sale alle braccia un'immemorabile linfa cioè noi riceviamo un flusso quindi un flusso di ricordi di sensazioni di di intuizioni che ci viene da un tempo immemorabile da cose accadute che non sappiamo ma che continuano in qualche modo ad esistere dentro di noi adesso si rivolge alla fanciulla amata che crede di essere l'unico oggetto di passione per lui insomma che non si rende conto di essere soltanto un elemento cioè di essere la causa occasionale dell'amore fanciulla è così noi non amiamo in noi un essere solo futuro ma l'immenso fermento cioè noi non amiamo dentro di noi solo quello che siamo adesso e che proiettiamo nel futuro ma nel nostro amore nel nostro eros percepiamo un fermento immenso cioè qualcosa che viene che è molto più grande e che viene da molto prima non un singolo figlio cioè non vediamo solo a un a un essere solo a un futuro ma guardiamo indietro ai padri ai padri che come frane di monte posano al fondo nostro cioè questi padri che si sono sedimentati come come le frane delle ere antiche si sono sedimentate sono diventate montagne colline no e guardiamo all'arido greto di madri di un tempo guardiamo cosa è stato delle maternità di un tempo e tutto il muto passaggio sotto il destino nuvoloso limpido tutto quello che è successo nelle ere passate sia di nuvoloso sia di terribile oppure limpido quindi di di bello tutto questo fanciulla era prima di te cioè tu sei adesso sei l'occasione del suo amore ma quante cose c'erano prima già in lui prima che ancora tu comparissi prima che lui ti vedesse e che poi invece influiscono su quello che lui adesso vede in te e adesso dice e tu tu che ne sai tu tu sei stata la causa tu sei stata quella che hai suscitato tempi remoti nell'illamorato tu hai scatenato in lui l'intuizione di quello che c'è in lui già da sempre di quello che lui si porta dietro quali mai i sentimenti erupero da essere scomparsi quindi tutti quei sentimenti che lui si porta dietro e che sono già nati sono già stati sperimentati sono sorti in esseri che furono che sono già scomparsi quindi donne che odiarono in tempi passati uomini cupi che sono vissuti e che portano che hanno lasciato il loro rancore nelle vene del giovane bambini bambini che non sono nati tutti i bambini morti oppure tutti i bambini che potevano nascere non sono nati quindi tutti gli esseri così nella loro complessità nel loro organizzarsi nei secoli tutti questi hanno lasciato delle tracce nel tempo e tu te le ritrovi come archetipi piano piano si rivolge ancora alla fanciulla no piano piano fa qualcosa che gli sia cara un fido lavoro giornaliero cioè di fronte a questa cosa di fronte al fatto che in questo sentimento che lui ha verso di te e che tu credi sia così semplice no sia scatenato soltanto dal tuo viso da una passione che nasce in questo momento perché ci sei ma invece è un qualcosa di molto più complesso che viene da molto più lontano allora tu cosa puoi fare cosa si può fare fa qualcosa che gli sia cara un fido lavoro giornaliero insomma stagli vicino giorno per giorno accompagnalo per il giardino cioè accompagnalo nella sua vita è inutile andare a indagare più in là e in più dagli le notti trattienilo lascia a voi interpretare queste due ultime parole insomma dagli le notti trattienilo ma questo è quello che che a questo punto la fanciulla amata che capisce ovviamente vale anche per lei il discorso anche lei si porta dietro tutta la tutta la storia passata tutti gli archetipi che vengono dal passato ma cosa possono fare i due che si incontrano in questo momento fare qualcosa che sia caro all'altro un fido lavoro giornaliero un lavoro affidabile uno stare insieme fiducioso giorno per giorno accompagnarsi nel percorso della vita e in più darsi le notti e trattenersi grazie 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 a tutti.